Lui è Jacopo Cardillo, però noi lo conosciamo come Iago. Io lo guardo, dopo essere stata in giro per mostre, a vedere le sue opere, mi ha concesso di dargli del tu. Come si guarda proprio, sai, un'opera d'arte, perché l'artista è un'opera d'arte? Io non ho la più palidità neppure se sono un'artista. Ma diamo conferme da questo studio? Sei un'artista? Non lo so, se lo dite voi... Ma adesso perché lo diciamo noi adesso. Come dire, io me la prendo questa cosa. Dunque, lui è adorabile, questo lo dico a beneficio del nostro pubblico, è adorabile, veramente, letteralmente adorabile. Ed è un ragazzo che fa il liceo artistico, diciamo bene la formazione. Ho fatto il liceo artistico. Liceo artistico, Accademia delle Belle Arti, fino ad un certo punto, quando il talento, che posso chiamarti Iago o Jacopo? Iago mi appartiene molto. Il talento è come quella cosa meravigliosa che è già dentro il marmo. C'è, esiste. Esiste e deve solo essere liberato. Tu hai lavorato la tua persona a sufficienza. Il tuo essere artista a sufficienza per liberare quello che poi ti ha permesso di diventare quello che sei diventato. È un percorso che riguarda tutti. Noi tutti siamo chiamati a lavorare su noi stessi, chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro. Anche questo momento che condividiamo è un modo per andare a scavare. Le tue domande diventano per me l'occasione per capire evidentemente meglio di che pasta sono fatto. Quindi utilizziamo a volte gli strumenti che gli altri ci danno per lavorare un po' meglio su noi stessi e per rischiare di capire qualcosa di nuovo. Io provo a immaginarlo bambino, che non è così difficile, perché ci sono persone che hanno, oltre alla giovane età, la sua, hanno questa capacità di mantenere la faccia da bambini, pur essendo egli noto nel mondo, in tutto il mondo. Allora, tu non eri un bambino che prendeva martello e scalpello e andava distruggendo casa. Avrei desiderato probabilmente. Avrei desiderato. Non avevo martello e scalpello. Ma perché non te lo regalavano mai neanche durante le feste di compleanno, Natale, no? No, evidentemente era una cosa che sarebbe arrivata, era lì un desiderio un po' astratto, poi a un certo punto uno è prepotente. Ma perché già te lo portavi dentro? Cioè, quando hai capito di essere... Capire è una parola troppo importante. Sentire. Sentire. Io dico spesso per spiegarlo che capita di riconoscersi in qualcosa che abbiamo attorno, no? Quindi evidentemente sarà capitato magari anche a te un giorno di vedere la televisione e di capire, no? In un modo più sentimentale che c'era qualcosa che ti riguardava e allora in qualche modo ti dai una strada, una direzione. Io l'ho ritrovato questo nel gesto di altri che hanno fatto delle cose meravigliose che io le guardavo e rimanevo sconvolto. Il primo che ricordi. Ma sai, una passeggiata a Roma, tutto quello che ci accompagna in una passeggiata del genere, ti domandi quelle cose che le ha potute fare. E mia madre, i miei genitori hanno avuto l'intelligenza e il buon cuore di umanizzare, no? I grandi, le divinità che di solito... Cioè, quella persona inarrivabile ha fatto quella cosa incredibile, è impossibile che tu la possa rifare. Loro me l'hanno sempre umanizzato, no? Il ragazzo che magari mentre lavorava mangia il panino con la mortadella, una cosa che io potevo fare. Quindi il bambino, quando tu umanizzi la grandezza, la rendi accessibile. Quindi lui è capace di riconoscersi. E poi diciamo che di fatto c'era la necessità, per me, del tutto personale, di essere il migliore. Ma il migliore rispetto all'idea che avevo di me stesso. Non migliore di altri, ma di me stesso. E quindi dire che cosa... Cioè, non posso capire quella bellezza se non la faccio. Quindi devo costringermi a fare la stessa cosa per capire che cosa significa. Lo chiamano il Michelangelo. Fanno molto male. Fanno proprio molto male. Peccato non aver messo un penny come scommessa sul fatto che lui potesse dire fanno molto male. Ho perso dei soldi. Secondo me, secondo una trimiliardata di persone al mondo, fanno molto bene. Allora, questa cosa la dicevano di Bernini, no? Sì. Diciamo speriamo che possa essere il Michelangelo del proprio tempo. E lo dicevano a ragione, perché ha avuto i secoli per dimostrarlo. Io sono un ragazzino che fa le cose che ha. Se il primo grande passo, arrivo in un minuto, per poter partecipare, è stato poter partecipare alla 54esima edizione della Biennale di Venezia. Ce l'abbiamo questa immagine, vero? del busto in marmo di Papa Benedetto XVI, che gli è valso la medaglia pontificia da parte del Cardinal Ravasi e del Cardinal Bertone per l'opera Abemus Papam. Oggi quest'opera, chiaramente, assume ancora un altro valore. Ma per quel voglio dare il meglio di me, essere il miglior me possibile, diciamo che siamo partiti con un piede giustissimo. Cioè, voglio dire... Sì, questo... Respira. Perché la prima scultura mi faceva schifo. Non era una cosa... No, è la verità. Marco, giusto. Era una cosa che non potevo vedere. Giusto, bisogna. L'avevo fatta. Cioè, quando ti arriva, ti viene chiesto di fare una cosa, però che... Sai, non ho mai voluto lavorare sotto padrone, quindi volevo fare le mie cose, no? Anche se poi devi accettare il compromesso. Di conseguenza, e quello che faccio oggi è così, però all'inizio devi accettare il compromesso. Poi, però, quando il Papa si è dimesso, e quella era una scultura monumentale, istituzionale, all'inizio, un ritratto, un busto istituzionale, che non mi piaceva. E quando si è dimesso, io ho avuto l'opportunità di poter fare un gesto diverso. Fermo. Io faccio un gesto che non ha niente a che spartire con l'opera d'arte. Però, come dire, siamo legati molto volentieri alla nostra pubblicità. Ci fermiamo solo per un attimo. Fermiamoci a quel gesto di Iago e torniamo tra un istante. Tutto l'ingresso. Iago, Jacopo Cardillo, un grande, grandissimo scultore. Il nostro Iago internazionale. E la mano fermi alla Bemus Papam, al tuo Benedetto XVI. Il Papa si dimette e tu scegli di rielaborare. Sì, questo succedeva nel 2012. Ovviamente, quando è accaduto. Hai dato una seconda vita, che poi è diventata la prima, a quell'opera. Sì, l'ho fatto più per me stesso, devo dire la verità, perché l'opera non mi riguardava. Invece avevo la possibilità di raccontare qualcosa che esprimesse veramente quella che era la mia necessità. Cioè, dire le cose in un certo modo. Il mio linguaggio era quella, la mia cifra. E allora, mi ricordo, mio padre mi mandò questo messaggino. Il Papa si è spogliato, usò questo termine. Per questo io poi, presi alla lettera e subito nel meccanismo creativo, già vidi qual era il gesto. Poi darà vedere una cosa e farla, c'è il gesto. E lì inizia l'operazione di convincimento, che evidentemente poi, magari dai genitori, dire ho intenzione di fare questa cosa. Perché immagina che hai fatto un'opera, è stata premiata, l'hai esposta in un... Quindi ha un curriculum l'opera e tu decidi di distruggerla, fai un gesto che è contrario. Certo. Il video ha più valore dell'opera stessa, probabilmente, perché testimonia quel gesto. È la testimonianza di un gesto, di una presa di coscienza. Infatti io l'ho fatto senza dirlo, l'ho detto dopo. Ecco, mi hai fatto e poi l'ho detto. È una tecnica che consiglio. È una tecnica che... è formidabile. Lui è la vera opera d'arte, comunque. È la vera opera d'arte. Il tuo nome è un nome che sta e che gira tutto il mondo. A New York inizi la realizzazione del figlio velato. Voi dite, ma non è il Cristo velato. Il figlio velato è esposto permanentemente all'interno della Cappella dei Bianchi, chiesa di San Severo, fuori le mura a Napoli. Io devo prendere molto fiato quando parlo di te. Cos'è il figlio velato? Il figlio velato è una storia che riguarda, come dire, anche dei punti fondamentali che hanno segnato il mio percorso di innamoramento in relazione a certi temi. La prima volta che andai a Napoli ero bambino in gita con la scuola e quindi andammo a visitare la Cappella San Severo dove c'è il celebre Cristo velato, il capolavoro assoluto. E io toccai la scultura. A quel tempo la protezione era molto più vicina. Oggi non ti puoi avvicinare. Ma io allungai la mano e fu il redarguido aspranente. Però nella necessità di capire, cioè quel toccare voleva dire aderire, capire, cioè già sentivo, immaginavo tutta la narrazione, quella cosa ha sedimentato. Poi nel tempo si è manifestata evidentemente la necessità di raccontare degli eventi della contemporaneità che mi colpivano. Insomma, sai un ragazzino che sta a tavola, mangia, torna da scuola e che cosa guarda? In televisione vede i bambini morti sulle spiagge, però in quel momento mangia. E quindi c'è l'associazione perversa tra il gesto della nutrizione, che è un piacere, un godimento, e le immagini perverse che vedi nello stesso tempo perché i tuoi genitori si devono informare. Questa roba ti condiziona, sta lì, a un certo punto evidentemente hai la necessità di poterla tirare fuori. In un mondo in cui noi andiamo di zapping e di velocità, switchiamo le immagini una dopo l'altra, restituire a un'immagine del genere un peso specifico che non può essere spostato, irrimovibile, per me voleva dire dare una possibilità nuova a quelle immagini di non essere più spostata, senza aggiungere significati, perché poi ho scoperto che i significati ce li danno le persone che vanno lì, dalla signora che va lì e gli dà un bacio e altri. Oh, Iago, a questo volevo arrivare. Il tuo collega, Bonarroti, perché lavorava la pietra, no? Sì. Diceva, è già tutto lì dentro. E ogni volta che tu senti e leggi questa frase, dici, sì, ho capito, però, poi vedi la pietà di Michelangelo, vedi il Davide di Michelangelo. e poi c'è il fruitore, ci sono io, c'è il pubblico, c'è chi ci segue, ci sono le persone che fanno la fila per venire a vedere le tue opere. E ognuno di noi recepisce qualcosa che è un tuo ulteriore dono. Cioè, tu sai di fare un lavoro che porta con sé una lunghissima coda di sentimenti, di comprensioni, di ho capito di più. Allora, questo lo spero, può succedere, a volte no, ma questa è nella libertà di chi li osserva. Certo, in verità. E quello che posso dire è che ognuno di noi, per fortuna, io di questo ho la certezza, ha la creatività, in misure diverse, perché la esercita in misure diverse. Alcuni la perdono perché non conservano il bambino che è in loro, e quindi perdono due degli ingredienti fondamentali che creano la creatività, ovvero l'entusiasmo e la curiosità. Questi si perdono col tempo e quindi la creatività sparisce. E dicono, ma io non sono creativo. Non è vero. Non la eserciti. Però che cosa c'è di fatto? Che è vero, cosa diceva il maestro Bonarroti, è che è contenuto. Noi abbiamo tutti la capacità di immaginare all'interno di un blocco di marmo una forma. Tu vedi la tua forma, io vedo la mia, ognuno vede la propria forma. L'unica differenza tra chi osserva e quindi chi immagina è che noi tutti immaginiamo una forma. L'artista si assume la responsabilità di tirare fuori tra quel numero infinito di forme una. Cioè la mia responsabilità è dire io vedo questo e quando tu ti rifuori quella forma tra il numero infinito possibile, c'è anche la tua là dentro, ma io ne tiro fuori una, lì sta la mia responsabilità. Gesso di restituzione, no? Dunque, sulla Stazione Spaziale Internazionale è arrivato Iago con questa opera intitolata The First Baby. Arriviamo? Arriviamo con la fotografia? Questa è una foto che ha fatto Luca Parmitano. Chapeau, appunto. Senti, fare un'opera che è andata così lontano da poter guardare la Terra. Ok, non c'era la Stazione Spaziale ai tempi di Michelangelo. Questa è già un'affermazione, così te la tolgo subito da Rito. Eh, se ci fosse state tempi di Michelangelo... No, non c'era, e non c'era, e non c'era. Beh, ti posso dire subito che la prima cosa, questo è un'analisi di realtà, quando mi è arrivata la foto io stavo allungato sul letto e guardavo il soffitto, è successo questo, mi sono sentito capace, no? È stata la prova del fatto che se hai una visione, insisti abbastanza, arrivi da qualche parte. Quella è arrivata lì. Ora, questo non è un capolavoro, è un sassolino di 7 cm, punto. Però... Cioè, in 7 cm tu hai fatto tutto quello? Sì, beh. Ma sei un mostro. Vabbè, ma una cosetta così. Però, no, ma... Effettivamente, cioè, è un piccolo gesto. Quello che è interessante è strumentalizzare un'immagine del genere per poter dire, lasciare passare il messaggio che perché sta lì? Sta lì perché un numero importante di cervelli da tutto il mondo si sono uniti insieme e hanno costruito un luogo che è la Stazione Spaziale Internazionale che è il vero capolavoro perché quel luogo riproduce le funzioni della Terra. Quindi, io mi devo prendere il merito di cosa? Beh, c'è una fotografia bellissima che possa essere una scusa perché quello comunque è rimanato un sassolino. Quindi non diamogli troppo valore. Senti, sassolino, l'avevano detto, sì, ti dirà tutte queste cose, ma io sono doppiamente contenta che le dica perché quella di Iago è l'umiltà dei grandi, è l'umiltà che rende possibile fare le cose più infinite perché, lo ripeto, si è persone che guardano seduti, comodi, tranquilli, la vita e nel frattempo fanno cose stupende. La bellezza in un aggettivo che cos'è per te in una parola? Questa è una domanda che temo perché io non... ti posso dire questo, sicuramente ne faccio esperienza, la percepisco, la... No, no, in una parola, una parola, la bellezza... Non sono in grado di tradurla ulteriormente. E ce credo perché fai le opere d'arte. Invece noi l'abbiamo chiesto a queste persone che se lo chiedo a voi, per voi la bellezza, che cos'è? Guardate un po'. L'artista è lui però. La bellezza per me è tutto quello che ti scalda al cuore e ti ferma al momento. Cioè tutto quello che ti fa dimenticare di tutto e ti fa... ti rende la vita infinita. Bellezza! E anche soltanto ammirare questa piazza, la fontana. Per me è bellissimo. Mi fa star bene e quindi quello che mi fa star bene secondo me è bello. Per me la bellezza è nelle cose inaspettate. È una passeggiata di arrivare al mare con la persona che ti fa star bene. Poi la bellezza per me è lei. Mangiano una bella matriciana alle spalle del Bernini qua. Questa è la grande bellezza di Roma. Poi in generale la bellezza è tutto quello che ha estetica, ha fascino. La bellezza è il sentimento che hai dentro l'anima perché vedi tutto bello in un ancolo, in un animale, in una nuvola, nella pioggia che cade sui vetri, dappertutto la bellezza. Questa bellezza è fondamentalmente tutto quello che ci circonda, dalle piccole cose alle grandi cose, passando per le persone, a tutti i monumenti, a tutte le cose che ci circondano, dagli animali, tutto, anche noi. La bellezza può essere la bellezza della natura, la bellezza di stare insieme bene ai figli. La bellezza per me è uno stato di grazia, di gioia interiore davanti a qualcosa che mi rispecchia o mi fa sentire meglio, ovviamente. La bellezza diceva quella signora sul tram con gli occhialini rossi è il sentimento che si porta nell'anima, che si ha nell'anima. È così. L'invidio. Sai, qual è il fatto? Mi rendo conto che effettivamente se io faccio quello che faccio forse alla ricerca, un giorno quando lo capirò ti chiamerò e ti dirò guarda, ho la risposta. Io sono stata tra le persone che, lo dico con gioia, che hanno fatto la fila per vederti e poi un artista lo si vede. È un modo improprio di usare l'italiano perché tu vai a vedere l'opera di un artista. Domandandomi se e che cosa ci fosse dietro, se è una persona cupa che lavora una materia durissima come la pietra o una persona capace appunto di accendere la luce dentro quella pietra, la risposta è la seconda, tu sei questo. Grazie. E ne fai anche quest'opera, perdonami, quest'opera, i ribaltamenti che tu offri attraverso la tua arte a che noi si ragioni di più sulle cose che abbiamo intorno. Anche quella è una lezione di bellezza. Chissà, probabilmente, io non ho una risposta, quello che faccio lo faccio cercando di capire perché ho i miei limiti d'altronde quindi devo tentare di utilizzare gli strumenti che una persona che scrive scrive per capire in fondo più che per dire. Io scolpisco, utilizzo questo linguaggio per capire. Quando lo faccio è il percorso, quando l'opera è finita è finita però il percorso che faccio ha imparato delle cose lì trovo sicuramente della bellezza. Sempre il collega Bonarroti arriviamo anche al timelapse arriviamo. Il collega Bonarroti diede una dicono una solenne martellata sul ginocchio di chi non gli rispondeva in quel momento. La diede sul marmo non ti avvicinò a un tizio e risponde no se no sarebbe stato un sommenzo criminale. Ti viene mai voglia di immaginare che loro parlino o ti rispondano? In realtà ti rispondono già perché sono uscite fuori dal marmo dalla pietra. No, no. Mi sono spinta troppo avanti. Sai ti racconto una cosa quando ero stavo lavorando a questa pietà nella chiesa di Santa Sprena e crocifere a Napoli e a un certo punto c'erano i lavori in corso entra una signora dello Sri Lanka c'è una comunità dello Sri Lanka lì e non si poteva entrare ma lei si intrufola va dentro dritta sapeva esattamente dove andare si avvicina all'opera io ero un po' lontano c'erano gli operai in giro si avvicina all'opera e inizia a recitare qualcosa io non capivo però non mi sono avvicinato e poi si fa un segno fa un gesto si bacia la mano tocca e se ne va ora io sarei potuto andare dalla signora e dire guardi che non è nonostante sia fatta in una chiesa non è un'opera religiosa non vuole dire questo il significato è questo io avrei perso una grande opportunità stare zitto e ascoltare e vedere questa è la grande opportunità che il significato di quello che noi vediamo è sempre comunque il nostro quindi perché farla parlare quando grazie a quello che fai puoi far parlare gli altri e arricchirti quello è il mio punto di vista sulle cose poi se te hai il buon cuore di dirmi due parole su quello che vedi io mi arricchisco no? io dico una sola cosa per chiudere avete avuto dentro casa un artista immenso Iago e poi sto zitta grazie grazie bravo 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 bravo